Ragazzi, volevo fare notizie porcata, è un format che ogni tanto torna, a volte ritornano, no? Notizie porcata. La prima volevo dire lì, festeggiano a coffe e champagne e mandolino, e via, alla grande, e vai. Lì, tutti festeggiano, se ne vedono di ogni colori. Poi vabbè, vediamo, 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 vediamo cosa dire. Invece sulle president delle stelle strisce che si è insediato. Ma tanto, voglio dire, uno vale l'altro. Possono mettere anche, capito, il monolite che hanno trovato là, nella Silicon Valley, là, c'hai capito? Abbandonato, non cambia niente. Terzo, terzo, volevo dire, benvenga la patrimoniale, però, cioè, voglio dire, ma il sistema, però, siccome che in Italia non si vuole fare niente, basta sovrapporre il patrimonio di una famiglia al reddito mensile con gli estimi, non gli estimi catastali, valori reali degli immobili. Quindi, se tu guadagni duemila euro in una casa da due milioni di euro, fatti due domande e abolisci la legge dei cinque anni. Devi abolire la legge dei cinque anni, dei cinque anni di congelamento degli accertamenti. Così sei a posto. Valache, sai quanti ne trovi gli evasori? Solo che non si vuole fare. Perché? Perché i evasori, lo sappiamo, dai, lo sappiamo dove stanno, nei posti alti.